Ne scarta un paio con quella finta, Leao, doppio passo di Leao, rientra col mancino Leao, il tiro, arriva sul secondo pago di piatto Noi, tira, tira, tira! Leao di nuovo col sinistro! Ma, 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 ma perché? Di sinistro mezzo metro fuori. Ma perché? Ma tiri la basta! Ci siamo, ci siamo, ci scorpo all'indietro. Ma cosa ci siamo? Ci siamo, e vabbè siamo andati via un centimetro nel corpo. Ci siamo, corpo all'indietro, non ci siamo, corpo all'indietro. No, ha sbagliato il tiro, però ci siamo, siamo lì. Allora, l'occhio al Bologna in area, il tocco! Tira! Libero! Bravo Magnana, amico mio! Il tiro di Ebischer, come si chiama, Ebischer, Ebischer. Uuuuh! Cosa ha preso? Magnana! Io ti voglio tanto bene, ma tu sei un eroe, tu sei un eroe. Ma il Bologna merita il vantaggio, dai! C'è una sola squadra in casa! Ha fatto una parata pazzesca! Una parata con la mano di Richiamo sotto la traversa! Prova per Giroud! Uuuuh! La girata di testa di Giroud! Skorupski! Non l'ha agganciata bene. È riuscito a fare una gran cosa, secondo me, già a prenderla e girare. Enzo, di testa non ne prendevi una. Guarda, sì, sì. No, 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 effettivamente... Nooo! Perchè questa uscita con i caratterni? Perchè questa uscita con i caratterni? Perchè questa uscita con i caratterni? Ma no! Perchè questa uscita con i caratterni? Non mi sei piaciuto! Brutta, brutta! E' stato un giallo! Allora... E' stata un'uscita talmente cattiva che... Si! Merita il giallo! Il tocco sulla destra per Tonani! Il cross è buono! Oh, che parata che ha fatto! Giroud! E Skorupski fa un mezzo miracolo, poi arriva Leao! Nooo! Spaccata sul cross dalla destra! E la palla esce! Non ce ne va bene nulla! Questa grande occasione! Questa grande occasione! Mamma Giroud! Con la suola viene via bene! Attenzione che si accentra! Non ha il mancino! Ma lo prova lo stesso! Bella! Il tocco è bello! Di nuovo Leao! Col destro Leao! Nooo! Si ha preso! Piede! Skorupski! Ma la nuova tira! Nooo! Esce di pochissimo! Esce di pochissimo il tiro di Calabria! Attenzione a Ibra che è sulla destra! Bravo! Entra in area! Tira! Prova il passaggio per Leao! Con il destro interno Leao a girare! Non gira abbastanza! La palla esce di un metro, un metro e mezzo o due! Ci vuole un equilibrio! Io dico che il Milan è una squadra che merita di essere lì in testa! Però ribadisco anche un concetto! Mancano sette partite e dobbiamo pensare partita per partita! Perché quando inizi a pensare al dopo del dopo del dopo succedono figuracce come quella di Salerno, come quella con l'Udinese in casa e come quella di stasera! Stasera è una figuraccia! Sì! È successo! Andiamo avanti ragazzi! Non facciamo drammi! Non facciamo funerali! Ha già vinto l'Inter! Eh vabbè ragazzi! Seconda stella! State fermo! State sereni! L'ha detto Gambaro! State sereni! State fermo!